Martedì 6 settembre, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna Occhio ai giornali che tutte le mattine alle 7.30 vi dà il buongiorno con la lettura dei titoli, delle notizie più importanti che trovate sui due quotidiani con gli inserti della provincia di Pesaro e Urbino. Andiamo con ordine, cominciamo subito con il Santo di oggi, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Zaccaria Profeta, stiamo parlando di un santo del VI secolo avanti Cristo e quindi stiamo veramente indietro negli anni. 6.37 invece è l'alba di oggi, il sole tramonta invece alle 19.35. Allora andiamo sul sito internet, il nostro sito internet, quello che trovate sulla rete all'indirizzo occhiolanotizia.it, queste sono le notizie d'apertura, vedete la cronaca in primo piano, strategie di uno spacciatore, droga dalla finestra, soldi in giardino, arrestato dai carabinieri. Poi trovate i video, i video che trasmettiamo anche nel nostro telegiornale e la diretta di Fano TV. Se siete fuori Fano, se siete fuori regione e volete seguire Fano TV in diretta, basta che andate sul sito occhiolanotizia.it, schiacciate qui in basso a destra, vedete c'è il simbolo del plague, alzate lì e avrete la diretta della nostra televisione. Poi sotto tutte le altre notizie andiamo a vedere allora invece la nostra stazione meteo, che cosa ci dice, questa mattina fa fresco, niente a che vedere con i giorni scorsi, la temperatura alle 7.32, vedete è di 15 gradi, quindi davvero fresco. Non c'è vento ancora, ma attenzione il tempo cambia, guardate la fotografia di uno scorcio di Fano, la parte nord, quella che dà verso Pesaro, possiamo dire così, anche se nell'immagine c'è il Codma di Rosciano. Ecco, dicevo il tempo sta cambiando, lo vediamo anche dalle previsioni del tempo elaborate dalla protezione civile delle marche, per oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti nuvoloso per nuvole in ingresso dal mare. Rovescio temporali sparsi più insistenti nei settori interni, temperature in diminuzione in particolare nei valori minimi. I venti saranno moderati nord orientali con raffiche fino a burrasca lungo la costa, quindi attenzione perché il tempo oggi cambia radicalmente. Cielo parzialmente nuvoloso invece domani con alternanza a schiarite, le precipitazioni saranno con rovesci sparsi nelle zone della montagna, centro meridionale e locali altrove. Le temperature sono in lieve aumento. Attenzione ancora al vento forte lungo la costa nella giornata di domani con burrasca lungo il crinale appenninico, intensità in diminuzione del vento dal pomeriggio. Giovedì migliora, vedete, su tutta la costa avremo soltanto qualche nuvola, mentre continuerà a piovere nelle zone interne, nelle zone colpite dal terremoto delle marche. Temperature in lieve aumento. Una leggera instabilità invece per la giornata di venerdì, seguita da tempo stabile e soleggiato per sabato e domenica e l'inizio della prossima settimana. La pagina del Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, si cerca un accordo per evitare l'algoritmo, parliamo di ospedale unico, vertice tra i sindaci Gambini Mediatore, tra Ricci e Seri. Dunque si parla di un accordo politico per risolvere questo rebus della localizzazione dell'ospedale unico di Marche Nord. Ieri Maurizio Gambini, presidente della conferenza di area vasta, ha incontrato i sindaci di Pesaro, Matteo Ricci e Difano Massimo Seri nell'ufficio di quest'ultimo. Nessuno vuole arrivare all'algoritmo della regione. Anche questo sisma ci costerà 13 miliardi e un dossier svela le criticità del ponte a rischio. Sotto la testata invece lo sport, il Fano, adesso deve adattarsi alla Lega Pro dopo le due sconfitte che corrispondono le prime due partite del campionato appunto di Lega Pro. Stessa storia del 1997. Dicevamo questo terremoto ci costerà 13 miliardi. Gli ingegneri ipotizzano una spesa molto simile a quella di 19 anni fa. L'area interessata dal sisma era più vasta ma oggi c'è più distruzione. L'assessore Sciapichetti non ci sta, dice le verifiche sono appena iniziate, impossibile fare previsioni anche economiche. E poi dalla pagina di Pesaro al mare, dalla festa alla fiera, sabato c'è la fiera di San Nicola. Pesaro da oggi scatta la segnaletica relativa ai divieti di sosta, il tradizionale mercato durerà tre giorni e concluderà un'estate ricca di eventi. La pagina di Fano invece del Corriere è sull'aeroporto che purtroppo non ha fatto una gran bella fine, anche se adesso staremo a vedere gli sviluppi. L'amministratrice getta la spugna, la gestione dell'aeroporto di Fano passa all'Enac, l'unico dipendente se ne va, l'ufficio adesso è chiuso. Il sindaco dice vogliamo ripartire e vanno coperte e sistemate le passività. La querel della pista di cemento passa in secondo piano ma il comune non molla. L'ipotesi di chiusura, scrive il Corriere questa mattina, gli ultimi sviluppi della gestione dell'aeroporto hanno convinto ancora di più i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a chiedere la chiusura della società a loro parere non titolata a svolgere un'attività di interesse pubblico. Torniamo a parlare del fondale marino, il fondale davanti a Fano. Ebbene in realtà nell'Adriatico c'è un arsenale, bombe della guerra dei Balcani scaricate dagli aerei, se ridice intervenga il governo. E ancora l'altra pagina di Fano è per l'allerta del torrente, per il torrente Arzilla torna la cattiva stagione, l'inverno, le piogge e dunque bisogna pulire l'alveo del torrente. Perché? Perché quando il fiume incontra i detriti e barriere poi esonda e sono guai. Il comitato chiede la pulizia tra le priorità del quartiere, il limite dei 30, la pista ciclabile e l'area verde. Sono le esigenze, le istanze presentate appunto dagli abitanti del quartiere. Il tema centrale è la sicurezza per le abitazioni, la viabilità e il gioco dei bambini. Il gioco dei bambini. E poi allarme in città per i topi, le lamentele dei cittadini nella zona del mare. L'Asur parla di un fenomeno tipico in questa stagione. Il comune interviene per derattizzare in maniera mirata le varie zone dove vivono questi animali, i ratti, ma le devono richiedere queste derattizzazioni i residenti. Ce ne sarebbero 12 per ogni abitante secondo una statistica mondiale. Ora escono persino dalle fogne. 12 topi a testa. Spaccio di droga. Arrestato per la quinta volta. Un albanese aveva adottato l'espediente di gettare le dosi dalla finestra. Un albanese di 45 anni che è stato sorpreso dai carabinieri del capitano Alfonso Falcucci. Aveva in qualche modo organizzato una sua strategia di vendita che però è stata chiaramente scoperta subito dai militari che conoscono perfettamente ormai strategie e quant'altro. Le avventure in mare raccontate al bastione è l'altra pagina del Corriere Adriatico di Fano, serata con autori e interpreti di Sea Devil, il film che è stato girato nell'ambiente fanese. La storia di un mostro in Adriatico, metafora delle angosce interiori che abbiamo ciascuno di noi, che ha ciascuno di noi. L'anteprima di questo film verrà presentato appunto a Fano. Andiamo adesso sulla pagina della Valle del Cesano, smantellamento dell'ospedale. Ora se ne accorge anche il PD, l'assessore comunale Sabatucci di Pergola, replica sulla fuga di medici di chirurgia. In area vasta è previsto un unico nosocomio cancellando le funzioni di quelle periferici. Rifiuti abbandonati da Orciano, pugno duro del Comune, reprimenda del Sindaco contro la maleducazione di alcuni cittadini. Palio della Rocca, Serra Sant'Abbondio, vince Campietro, ma il successo è degli organizzatori, grandi numeri per il trentennale, un pubblico record nelle cinque giornate. E poi da Mondolfo premiate due glorie del pallone col bracciale, riconoscimento del sindaco al maestro Artigiano Ciuccoli e al campione Sorcinelli. Da Senigallia i condomini non vogliono, anzi dicono non vogliamo le prostitute e le squillo vicino, vicine di casa. Tre appartamenti affittati alle prostitute, la rivolta dei residenti di via Podesti, c'è un via vai continuo, dicono loro portiamo a spasso i bambini e tutto è imbarazzante. Poi c'è un escamotage che viene evidenziato dal giornale questa mattina, l'escamotage dei clienti che così evitano le multe. Negli ultimi mesi le passeggiatrici della statale hanno subito un calo di introite a causa delle continue sanzioni, molte si sono organizzate per aggirare l'ostacolo ed evitare di perdere la clientela, la trasferta in casa è più costosa per il cliente ma è più vantaggiosa rispetto alla multa da 400 euro che viene combinata appunto se si viene scoperti in strada con una squillo. Trovano una coppia invece sempre a Senigallia disconosciuti nel giardino, sospetti, ladri si scusano, cerchiamo un alloggio, dobbiamo sposarci così si sono giustificati di fronte alla richiesta legittima di cosa ci fate qui nel nostro, nel mio giardino. Autokiller, la notizia invece drammatica di ieri dove ricorderete vi abbiamo dato la notizia di questa auto che è piombata contro una donna che stava camminando sul marciapiede sul lungomare di Senigallia e che purtroppo è stata uccisa, adesso il ragazzo è uno straniero è finito sotto inchiesta, la pensionata falciata sul lungomare di Marzocca all'ombra dell'omicidio stradale. Autokiller, il giovane è stato denunciato. E adesso andiamo sulla pagina di Pesaro e provincia del Corriere Adriatico, Gabbia e Catena per i cani, no di Ampana, il Partito Democratico si divide. Centrosinistra e Forza Italia in regione propongono più gabbia e catena per fido, insorgono gli animalisti, non si ceda dicono dinnanzi alla lobby dei cacciatori e degli allevatori, ma dentro il PD che insieme alla Giunta sta lavorando ad un testo unico contro il randagismo e a tutela degli animali d'affezione non mancano i mugugni. Questa è la notizia sul Corriere. Poi ancora nuova scuola di tavernelle missione compiuta, siamo a Serrungarina, giorni ci sarà il taglio del nastro, piantati in giardino i germogli della ormai, possiamo dire, famosa pera angelica. Apriamo adesso il resto del Carlino, la pagina di Fano. L'Ocean raddoppia altri 4.000 metri quadrati di shopping, investimenti milionari e prospettive di lavoro, già partite le opere di urbanizzazione. È un amplimento di cui vi abbiamo parlato ormai tanto tempo fa, i vecchi 6.000 metri espositivi, ora se ne aggiungono altri 4.000, partite già le opere di urbanizzazione, è previsto anche un rifacimento, un restyling di tutto quello che già c'è, attraverso uno studio di architettura milanese e rifacimento estetico di tutto il complesso. Al termine dei lavori il gruppo della distribuzione francese investirà oltre 15 milioni di euro. Tutti i particolari comunque nell'articolo sulla pagina di Fano del Carlino. Nautica invece inizia l'era Carbon Line, firma fatta e passaggio eseguito, assorbiti dalla nuova proprietà 80 su 89 dipendenti dell'Azimut, di quello che era l'Azimut Benetti. Mare esplosivo, l'assessore Fanesi rivela Sassonia era già stata bonificata, setacciati in primavera 16.000 metri quadrati di spiaggia, l'allarme di De Benedittis di noi giovani, grosse responsabilità da parte di bagnanti e di chi usa le barche. Pusher dalla finestra, il figliastro lo difende su Facebook, era ai domiciliari ma spacciava cocaina. No, dice, era per uso personale. E poi ancora la pagina di Fano del Carlino, ricopriremo gli scavi di Porta Giulia e sul Teatro Romano è vicina la svolta. Dopo l'accusa della soprintendenza, Marchigiani svela le novità. Sono pochi, 33.000 euro per il museo, ma sono i primi spesi dopo anni di inattività. E allora, qual è questa novità? La novità è che per evitare il degrado di un'area a cielo aperto, l'amministrazione vorrebbe ricoprire, e non sarebbe sbagliata questa cosa, ricoprire l'area degli scavi di Porta Giulia, che lasciati così com'è davvero solo uno scandalo, con una pavimentazione che mostri il tracciato romano. E di questo però adesso staremo a vedere. Fanno la smetta di fare la guerra a Mondolfo, ammesso che ci sia qualcuno che faccia la guerra a Mondolfo, è il momento di collaborare. L'appello è di Laura Giombetti di Fano Unita. Pesaro è più smorta, ma sa comunicare meglio. L'estate che si sta concludendo, l'analisi è del Vice Presidente del Consiglio regionale, Minardi. Sul fatto che sa comunicare meglio, su questo direi che non c'è assolutamente dubbio. Stop alle flebo di ferro a Pesaro. Troppo rischioso. Tutti a Fano. L'Agenzia del Farmaco cambia le regole. Utenti in disagio. Per fare una flebo di ferro, ora bisogna andare a Fano. Prima bastava recarsi negli ambulatori dell'Asur, distribuiti sul territorio. Adesso invece non è più possibile. Bisogna chiamare l'ospedale Santa Croce di Fano e prendere appuntamento. Andare a Fano e tornarci tante volte quante sono le somministrazioni che la terapia richiede. Ma l'ospedale unico è unico anche con due presidi. L'algoritmo, gli apprendisti stregoni e l'esistente Luigi Illuminati intervista, fa un sunto, parla dell'ospedale unico. E qui c'è la foto dell'ex assessore regionale alla sanità, Almerino Mezzolani. Annunciati altri 200 arrivi. Siamo in chiusura. Annunciati altri 200 arrivi a breve. C'è una riunione di emergenza in prefettura e il quantitativo per le marche. Altri 200 profughi sono in attesa infatti nelle prossime ore qui nella nostra regione. Non in tutta la regione. La provincia di Macerata, Fermo e Ascoli stanno affrontando il terremoto e dunque sono escluse dalla ripartizione. Quindi un centinaio saranno destinati nella nostra provincia e altrettanti in quella di Ancona. Ecco perché la riunione d'urgenza in prefettura. Non c'è altro. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia. Vi ricordo il numero 338 4968 250 per le vostre segnalazioni che vanno dalla cronaca, segnalazioni di cronaca, quindi incidenti e quant'altro, fino alle cose che non vanno attorno a voi. 338 4968 250. Memorizzatelo sul vostro cellulare e utilizzate Whatsapp, la messaggeria grazie alla quale potete anche inviarci foto e video. Oppure scaricate le nostre app su Apple Store o Google Play. È un'applicazione gratuita che vi dà la possibilità di tenere sotto controllo tutte le notizie in tempo reale che noi pubblichiamo sui social network e non solo. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.